Salve ragazzi, sono sempre io Alex Matto e oggi sono qui con la... E' da un po' che non facevo il video di carte Pokémon e allora ho detto, sai dai andiamola a fare perché... Come ho detto nel video delle carte di Yuvi, mi sono presentato un po' perché avevo rotto la webcam e il computer quindi... Niente, allora... Partiamo con farvi vedere il livello X Per poi passare alle prime, alle X, una promo, poi le legend e una star Poi, allora, iniziamo subito Abbiamo... Palchia livello X Electrivire livello X Arceus livello X Flygo livello X Un altro Arceus livello X Garchompsy livello X Un polio livello X, promo Come Garchomp Rayquasi livello X, promo E... Scegli livello X Che non altro chiesti di tanti, promo Ok Poi... Poi... Allora... Iniziamo con farvi vedere le prime che sono in commento Potete vedere su un bel po' Allora... Poi... 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 Comentei... Rhygo... Deplosion... Red Diamond... Felicator... Celebrity Prime... Price Prime... Scissor Prime... Omega Prime... Electrod Prime... Indra Prime... Neganii... Un doppio Prime... E l'altro... Un doppio Prime... Oh... Questi sono tutte le mie prime... Poi... Abbiamo... Le X... Abbiamo... Dragonite... X... Che non scambio eh... Non lo scambio... Vapore... Non X... Come potete vedere... Un po' rovinato... Vapore... Se lo vengono... Se lo vengono... Se lo vengono... Se le V... X... Dal team... No... Dal pacchetto... Scusa... Vapore... Regani... Max... Dai... Dai... Mazzi... Epici... Dioxis... Dal pacchetto... Rayquasex... Del pacchetto... E... Erma... Ora... Una promo... Che è quello del team... Di bianco e nero... Ho comprato sullo stesso team... Di bianco e nero... Poi... Comprerò anche quello di Oshawott... Ma... Ho comprato questo... Che era quello del team... Sì... Bellissimo... Bellissimo... Sti sviluppo... Ragazzi... Era la mia carta... Perfetto... Ok... La star... E' un Pikachu star... E poi... Abbiamo... Abbiamo... Le legend... Allora... Oful legend... Parte sopra... Parte sotto... Doppia... Oful legend... 저희가... Summule... Parte sopra... Parte sotto... Partอกilità... Parte sopra... хk pasta... Parte sotto... Dark Clay... Le sig-l... Parte sotto... Lavema... Doppia... Poi abbiamo... Raikoh e Suifun... Hai parte sopra... Che poi abbiamo... Doppia... Quindi... Raikoh... Sifun... Parte sopra... poi le qualsiasi di O si sparte sopra le qualsiasi di O si sparte sotto e l'ubia oh scusate l'ubia parte sopra tanto sotto queste erano le mie carte più rare dei pokemon se vi interessa qualsiasi carta non dovete non dovete non dovete far si che dirmelo perchè io ve le scambio quasi tutte le carte e quindi ci vediamo alla prossima volta ciao a tutti